Rieccoci, ben ritrovati in diretta qui dagli studi di Rete7, una nuova puntata di Buongiorno Dottore che va ad iniziare, io allora vado a presentare il mio ospite in studio, eccolo qua, il nefrologo dottor Giuseppe Squishimarro che ringraziamo per avere in studio con noi. Buongiorno dottore, allora 011 06 00 774 il numero per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254, se volete mandarci sms o whatsapp, lo vedete anche in sovrimpressione, mi raccomando sempre, l'audio del televisore è abbassato a zero, l'audio del televisore è silenziato quando telefonate e parlate in diretta con noi. Allora, buongiorno dottor Squishimarro, calcolosi renale, aia mi verrebbe, il primo l'onomatopea che mi viene in mente a parlare di questo tema, però è i calcoli, è un fenomeno diffuso e allora insomma parliamo di nefrolitiasi, si dice anche. Nefrolitiasi come termine tecnico, cosa sono i calcoli? I calcoli sono poi in realtà delle pietre, delle vere e proprie pietruzze di varia forma, dimensione, varia composizione, che si formano all'interno delle vie urinarie e sono formate da sostanze che sono abitualmente sempre presenti nelle urine, come il calcio, lo salato, l'acido urico, abitualmente sono disciolte nelle urine, in determinate circostanze però anziché rimanere disciolte precipitano formando dei cristalli che poi vanno ad aggregarsi tra di loro, costituendo degli ammassi che sono di dimensioni sempre più grandi fino a costituire appunto calcoli anche molto voluminosi che possono anche andare ad occupare tutto lo spazio delle cavità urinarie. Quali sono queste circostanze che portano alla formazione dei calcoli? Sostanzialmente quando ci sono persistentemente delle concentrazioni troppo elevate di queste sostanze che tendono a precipitare. Questo o perché vengono eliminate in quantità eccessiva o perché vengono diluite in un volume troppo basso, cioè il soggetto beve poco, quindi produce poco volume di urine e quindi è più facile la concentrazione. Per dare un'idea è come se noi prendessimo un bicchiere, ci mettiamo un pochettino d'acqua e cominciamo a versarci del sale mescolando con un cucchiaino. Fino a un certo punto il sale si scioglie. Superato un valore limite non si può più sciogliere perché la soluzione è satura e precipita sul fondo del bicchiere dove noi lo possiamo vedere. Nelle urine fondamentalmente capita la stessa cosa. La differenza è che le urine non sono una semplice soluzione di acqua e sale. contengono un numero molto ampio di sostanze, tra cui ce ne sono alcune, per l'appunto calcio, acido urico, salati, che tendono a precipitare. Altre invece, come il magnesio e il citrato, che tendono a ostacolare questa precipitazione. Quindi, alla fine, la formazione del calcolo dipende dal rapporto di forze che si viene a stabilire nelle urine tra sostanze che tendono a precipitare da un lato e sostanze che si oppongono a questa precipitazione dall'altro. Come ci si accorge che c'è un problema, ci può essere un problema di calcoli? Ma, diciamo, la manifestazione clinica classica della calcolosi è la colica. La colica è un dolore violentissimo, un dolore al fianco, solitamente al fianco, dove può rimanere localizzata o spesso c'è anche un'irradiazione dal fianco verso il basso, verso l'inguine, spesso associata a sanguinamento urinario, a nausea, vomito, sudorazione fredda. Però, la colica è, diciamo, il segnale che il calcolo si è mosso. Ma non sempre il calcolo si muove. I calcoli si formano nelle alte vie scrittrici, quelle all'interno del rene, quindi nei calici, nel bacinetto. Possono rimanere lì, senza muoversi. Se rimangono lì, solitamente non danno praticamente nessun disturbo. Quindi la calcolosi ha un decorso del tutto asintomatico, ci possono essere dei disturbi vaghi, a cui tante volte non si dà neanche tanto peso, cioè un po' di dolenzia al fianco, un po' di senso di fastidio, di senso di tensione. Il dolore arriva quando il calcolo si muove. E per muoversi deve essere ancora abbastanza piccolo, perché se supera determinate dimensioni, a quel punto lì proprio non ha più lo spazio per, come dire, per cambiare posizione. Quando il calcolo si muove, quindi cade in basso verso l'uretere, distende l'uretere, blocca il passaggio dell'urina, l'uretere si distende e questa distensione acuta e improvvisa è quella che genera la colica. Ecco, sembrerebbe quasi messa così che un calcolo più grosso paradossalmente faccia meno male. È proprio così, perché i calcoli che si muovono sono i calcoli piccoli, diciamo, un calcolo si può muovere finché ha delle dimensioni di 5-6 mm. Superate queste dimensioni, a questo punto gli manca anche un po' lo spazio per muoversi. Può restare tutta la vita depositato senza dare grossi problemi. Sì, può rimanere così. Chiaramente con calcoli molto grossi c'è anche il rischio di complicanze infettive, quindi uno se ne accorge a posteriori, perché c'è un'infezione o c'è un'insufficienza renale di non chiara causa, si fanno gli accertamenti del caso e si scopre un calcolo che fino a quel momento era passato del tutto inosservato. Andiamo a leggere un messaggio. Sono stato operato di calcoli, da allora bevo molto acqua, ma anche spremute e bibite. Volevo sapere se faccio bene, Giulio, 56 anni. Fa bene in parte, in parte no. Diciamo che il cardine della terapia della calcolosi, intendendosi come terapia della calcolosi in questo caso non tanto la cura del calcolo che già c'è, ma la prevenzione di un eventuale futuro calcolo, perché la calcolosi renale è una malattia ad evoluzione spesso recidivante, cioè chi ha avuto un calcolo in passato è probabile che ne formi altri anche in futuro. Allora, il bere molto va benissimo perché appunto si evita quel discorso fatto prima di iperconcentrazione delle orighe. Bere molte spremute va anche questo molto bene perché questo comporta un buon apporto di citrati e di magnesio che sono appunto tra quelle sostanze che si oppongono alla formazione del calcolo. Bere le bibite, bibite zuccherate, va meno bene perché in genere nelle bibite si usano come dolcificanti prodotti a base di fruttosio. Il fruttosio è una grossa fonte di acido urico e l'acido urico è una sostanza che favorisce, cioè che può essere il componente stesso del calcolo, i calcoli di acido urico, ma a parte questo favorisce la formazione di calcoli di ossalato di calcio, quindi è proprio una cosa da questo punto da evitare, quindi bere sì, bere acqua sì, bibite anche però diciamo in quantità limitata. Ecco qua 011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 4254, per i vostri sms e whatsapp andiamo a leggere un messaggio. Ho fatto analisi del sangue, ho valore di ammonio venoso basale 74, cosa vuol dire l'acqua? Vuol dire che è una cosa che con la calcolosi non c'entra assolutamente nulla per fortuna, perché ci sono dei calcoli, la calcolosi infettiva che è un discorso un po' a parte, che sono costituiti da una sostanza che si chiama fosfato ammoniomagnesiaca, però l'ammoniemia di per sé è un indice di funzionalità del fegato e non dei reni. Ricordiamo sempre che non è obbligatorio scrivere o telefonare sul tema del giorno, però possibilmente rimanete dottore in ambito nefrologico finché possibile, poi tutto proviamo a rispondere, ma ecco almeno quello. Abbiamo un altro messaggio. Allora poco tempo fa ho avuto una colica, da allora bevo sempre molto, quasi tutta una bottiglia già la mattina, poi ancora un po' durante la giornata. Devo bere ancora di più o basta così? E Sandro D'Arona ha 68 anni, da come ha descritto dovrebbe poter bastare, no? La bottiglia intera dipende quante... Va bene, calcoliamo anche che sia una bottiglia da un litro e mezzo. Diciamo che il bere abbondantemente, diciamo che per la prevenzione della calcolosi uno dovrebbe bere quanto basta per produrre nelle 24 ore una diuresi di almeno due litri. Quindi per produrre due litri, in genere un litro e mezzo, due litri di acqua, contando che poi uno acqua la assume anche attraverso gli alimenti, dovrebbero bastare. Se però uno vive o lavora in un ambiente molto caldo o fa un'attività fisica intensa possono non essere sufficienti. E dal messaggio una bottiglia intera più una parte poteva sembrare due litri? Sì, 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 come quantità ci stiamo. È la distribuzione che non va bene, perché questo signore, se ricordo bene, si alza, beve la sua bottiglia d'acqua, calcoliamo pure che sia una bottiglia da un litro e mezzo, e dice bene, io il compito della giornata l'ho assolto, adesso basta. No, perché i due litri, il litro e mezzo d'acqua vanno distribuiti omogeneamente nel corso delle 24 ore. Diciamo che l'ideale sarebbe mezzo litro ai pasti, mezzo litro a pranzo, mezzo litro a cena e gli altri 500, 1000 distribuiti dalla mattina alla sera. Soprattutto è molto importante bere almeno due bicchieri d'acqua prima di andare a letto, perché questo evita una eccessiva concentrazione delle urine nel corso delle ore notturne. Quindi quantità e anche modus operandi, ecco, come fare la cosa. Questo è interessante perché chi ha magari, non so, problemi di prostata o semplicemente di eccessiva urinazione tende a fare il contrario per evitare di doversi alzare di notte, però non va bene. Per i calcoli non va bene, poi capisco anch'io che se uno si riempie di acqua prima di andare a dormire può avere dei problemi sul riposo notturno, però insomma bisogna cercare di bilanciare un po' le varie esigenze. Allora andiamo a leggere un altro messaggio. Ho sentito che chi ha avuto dei calcoli non deve vedere latte e formaggi neanche da lontano. Io invece ne mangio quasi tutti i giorni e non ho avuto problemi. Sara, 56 anni d'alba. Giustamente non ha avuto problemi. In realtà il discorso è questo, cioè la grande maggioranza, il 65-70% dei calcoli sono calcoli di calcio, prevalentemente calcio salato e calcio fosfato. Però il latte e i formaggi, uno non sono la fonte, quindi sulla prevenzione uno deve limitare gli introiti di calcio, non deve mangiarne eccessivamente. Però la principale fonte di calcio è rappresentata non tanto dal latte e dai formaggi, quanto dalle proteine animali, quindi le carni. Il latte e i formaggi, i yogurt, insomma tutti i derivati del latte, nella giusta quantità se ne possono mangiare. Anche perché una dieta eccessivamente povera di calcio non solo non aiuta nella prevenzione dei calcoli, ma addirittura la favorisce, perché se io introduco troppo poco calcio, la conseguenza è che il mio intestino assorbirà un carico eccessivo di ossalati, che sono molto più importanti che non il calcio per la formazione del calcio ossalato. Quindi evitare diete ipocalciche, latte e formaggi tranquillamente, senza, non in quantità industriale ovviamente, ma in quantità normale. Con moderazione, insomma va bene. Ma non c'è da passi problemi. È una buona notizia, insomma. Non c'è da passi problemi. Pronto, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Andrea a telefono da Torino. Buongiorno. Approfitto del dottore così per chiedere. Io ho questo problema, so che per la calcolosia stane qua. Bevo poco. Mi è sempre problematico poter bere. Allora bere poco poco non comporta, non fa bene. Ok, per espellere eventualmente pietre, petruzze e via di seguito. Ecco, cosa... Lei cosa dice? Questo corrisponde a verità? Il fatto che bisogna bere molto, molto... Perché io tra l'altro non ho mai avuto problemi di calcolosi o tali. E qua ha fatto così. Mi ricordo vagamente. che ho avuto delle coliche renale una volta o due. Nella mia, io sono già con età e vantata. Ma le volevo dire, ecco, devo bere, devo darmi da fare, devo... Ecco, devo assolutamente bere, dottore? Ma, diciamo che se lei non ha avuto calcoli fino a questo momento, anche se ho sentito che ha avuto delle coliche, quindi... Comunque, diciamo, se non c'è una calcolosi accertata, non siamo in una situazione di particolare rischio. Diciamo che il bere, cioè l'assumere una giusta quantità di acqua, è una cosa che va bene non solo per la calcolosi, ma va bene in generale per tutte le problematiche nefrologiche, per tenere nei giusti limiti la pressione, per avere la giusta funzionalità di tutti gli organi. Quindi il bere non vuol dire che uno deve bere tutti i giorni tre litri, quattro litri, cinque litri. Diciamo, un litro e mezzo, tra quello che poi, insomma, tutto sommato è una quantità abbastanza standardizzata, ripartita nelle 24 ore, dove un po' è acqua, un po' possono essere, che so io, tisane, sciroppi, altre cose, conviene bella. Grazie, grazie dunque. 011 07 0774, il numero per le vostre telefonate, 348 80 40 254, il numero per i vostri sms o whatsapp. Una curiosità, dottor Squichimaro, bere tanto, bere acqua del rubinetto, può dare qualche problema o no? Perché si sentiva in passato i sedimenti di un'acqua non così teoricamente pura come l'acqua, diciamo, imbottigliata. Ma in realtà no, ma va bene anche l'acqua del rubinetto. Il problema dell'acqua del rubinetto è fondamentalmente che è un'acqua molto più controllata dell'acqua imbottiglia, anche perché viene controllata quotidianamente in linea diretta, mentre le acque già imbottigliate sono state controllate alla produzione che non si sa quanto tempo prima è stato. Come qualità sono buone, il problema può essere il gusto, che effettivamente c'è l'aggiunta di cloro, per cui può non essere proprio di un gusto eccellente a volte, però in termini di efficienza, diciamo così, va bene ugualmente. Dovremmo avere un messaggio che ci è arrivato il 348 80 40 254. Allora, mio marito ha fatto dei calcoli per lui da allora, mangiamo insipido e vegetariano, ma la carne è davvero proibita? Maria Bruno da Torino che salutiamo, proibita no? Proibita? Con notevole moderazione. Sì, mi verrebbe da dire, dottore. Sì, sì, perché diciamo, se io ho avuto dei calcoli in passato, non so di preciso che tipo di calcoli ho fatto, perché se io ho avuto la colica, poi dopo di che il calcolo non l'ho raccolto, o l'ho raccolto, ma dopo un po' l'ho buttato. In ultima analisi, non ho mai fatto analizzare questo calcolo, non ho mai fatto degli esami, oppure ho fatto gli esami, ma dagli esami non è venuto fuori nulla di particolare. Quindi ho una storia di calcolosi, diciamo, non meglio specificata. Allora, per evitare futuri problemi, le cose da fare sono due. Uno, bere, cosa di cui si è appena parlato. Due, seguire determinati accorgimenti nell'alimentazione, che sono limitare il sale, limitare le proteine, soprattutto le proteine animali, e limitare gli zuccheri a rapido assorbimento. Allora, limitare le proteine animali vuol dire che uno deve limitare il consumo di carne, bianca, rossa, e eventualmente favorire il pesce, e assumere proteine preferenzialmente vegetali. Per esempio, a questo scopo vanno benissimo i legumi. Non vuol dire che la carne se la deve dimenticare, cioè non è che chi ha avuto dei calcoli deve diventare vegetariano o vegano addirittura. Deve seguire un'alimentazione che, se vogliamo definirla in qualche modo, un'alimentazione mediterranea comune, dove c'è la carne, ma ci sono anche i vegetali, non un'alimentazione esclusivamente su base carne. E soprattutto, la cosa fondamentale è limitare il sale. 011-06-00774, per le vostre telefonate, 348-8040-254, per i vostri sms o whatsapp, dottor Squichimarro, viene diagnosticata una calcolosi renale e a quel punto cosa si fa, cosa si deve fare? Allora, la prima cosa che si può fare è vedere in che modo viene diagnosticata, cioè se viene diagnosticata perché c'è stata da poco una colica o se viene diagnosticata così a freddo. Diciamo che soprattutto se c'è stata poco tempo prima una colica, si può, l'obiettivo della cura comunque è sempre quello di liberarci di questo calcolo. Quindi, il calcolo tante volte viene eliminato spontaneamente. In questo caso non è successo perché io il calcolo l'ho visto. Allora, si può cercare di favorire questa espulsione spontanea, facendo bere tanta acqua, eventualmente in casi particolari con l'appoggio di determinate terapie farmacologiche che aprono le vie e facilitano l'uscita del calcolo. In situazioni particolari, ma abbastanza limitate, cioè quando abbiamo dei calcoli costituiti solo ed esclusivamente da acido urico, si può tentare di sciogliere il calcolo con una terapia medica. All'infuori di queste situazioni, se c'è un calcolo in sede, un calcolo già di dimensioni, un calcolo radiopaco, quindi non di acido urico, di dimensioni superiori a mezzo centimetro, bisogna valutare i pro e i contro se, almeno per il momento, lasciarlo in sede oppure rimuoverlo. E la rimozione richiede la camera operatoria, tenendo presente che oggi come oggi la chirurgia, sia tradizionale sia laparoscopica, per la calcolosi, è limitata a casi particolarissimi. Il cosiddetto bombardamento, cioè la litotrissia extracorporea, va benissimo, ma anche questa è passata in secondo piano, oggi come oggi. Le metodiche più largamente utilizzate sono delle metodiche di tipo endoscopico o percutaneo, con le quali, mediante apposite apparecchiature, o si riesce a estrarre il calcolo, oppure lo si frammenta con il laser, con ultrasuoni, in modo poi da favorire nell'eliminazione. Lo salato di calcio, visto così, deve fare un po' male, poi magari dipende. Fa male tutti, fa male tutti in realtà. Certo, ho visto anche la struvite, che se non sbaglio è tipica dei gatti. Sì, la struvite è fosfato di calcio, però quando ha un corpo estraneo, un canalino piccolo piccolo, fa male sempre. Può portare anche a volte l'espulsione a lacerazioni del tessuto? No, fortunatamente questa è un'evenienza molto rara. Cioè qualche lacerazione c'è sempre, di fatti per esempio il fatto che alla colica si accompagni proprio la presenza macroscopica di sangue nelle urine è proprio l'espressione di un insulto delle pareti ureterali, però proprio lesioni gravi, irreversibili, che richiedono un intervento fortunatamente. Andiamo a leggere un messaggio. Anni fa ho fatto un'operazione per dimagrire, dopo un po' ho avuto una colica e mi hanno trovato dei calcoli nelle rene che prima non c'erano. C'entrano qualcosa con l'operazione? Grazie per la trasmissione e la disponibilità. Verosimilmente sì, nel senso che tra le situazioni che predispongono alla calcolosi ci sono anche problematiche intestinali, in particolare sindromi da malassorbimento, per esempio dovuto a una malattia cronica del pancreas, oppure dovuta a interventi sull'intestino in cui vengono rimosse grosse parti dell'intestino, cosa succede? Succede che, e quindi anche la chirurgia, per dimagrire la chirurgia bariatrica, siamo un po' nella stessa situazione, cosa succede? Succede che le capacità di assorbimento dell'intestino per motivi vari vengono compromesse, viene in particolare, vengono assorbiti di meno gli acidi grassi, questo eccesso di acidi grassi attraverso una serie di meccanismi favorisce l'assorbimento degli ossalati, quindi è abbastanza frequente in chi ha fatto degli interventi per dimagrire, avere delle problematiche di calcolosi renale che sono legate appunto a un'eccessiva eliminazione di ossalati e al contempo anche, specie qui ha fatto l'intervento, una ridotta eliminazione di citrati, quindi un eccesso di sostanze che tendono a precipitare e una carenza di sostanze che invece ostacolano la precipitazione, quindi sì, la calcolosi è una possibile conseguenza degli interventi chirurgici per dimagrire, per perdere peso. Abbiamo un altro messaggio, lo leggiamo. Buongiorno, bere molto tè nero, senza limone, può aumentare in sorgere di calcoli? Diciamo che il tè è una possibile fonte di ossalati e di purine. Senza limone, tenevo senza limone, comunque l'importante è poi come è il… Si beve anche senza limone. Sì, sì, sì. L'importante è poi il consumo di frutta complessivo, se anche non metti il limone nel tè, ma poi tutti i giorni si mangia frutta in quantità normale va benissimo così. Leggiamo un altro messaggio. Sono Walter dalla provincia di Turino, ho già fatto cinque bombardamenti dei calcoli. Adesso ho di nuovo un calcolo da 9 mm, sono tanti, però mi hanno detto di aspettare perché ho molti residui e sabbia causati dai bombardamenti. L'unica cura è bere molto? Questo purtroppo è uno dei problemi dei bombardamenti, nel senso che non sempre al bombardamento segue una pulizia completa. Spesso e volentieri rimangono dei piccoli frammenti che però se non vengono eliminati tenderanno poi nel tempo progressivamente a crescere e a riformarsi. Allora, non è che sia l'unica cura, sicuramente bisogna bere molto, anche perché in questo caso si può sperare che il calcolo si smuova e che quindi almeno qualcuno venga eliminato per via naturale. e poi per l'appunto seguire questi consigli dietetici di cui abbiamo parlato prima, a meno che non siamo in una situazione ancora più favorevole, cioè qui verosimilmente si sa di che cosa è fatto il calcolo, saranno stati fatti tutti gli esami, quindi a questo punto si può intraprendere una cura non così generica, solo basata sull'alimentazione come quella di cui si è parlato prima, ma una terapia che comprenda una dieta più specifica, perché chiaramente chi ha avuto dei calcoli di acido urico ha delle esigenze diverse da chi ha avuto dei calcoli per esempio di calcio ossalato e anche con l'ausilio di medicine, anche se devo dire onestamente che questi provvedimenti, queste cure vanno bene a campo pulito, cioè in assenza di calcoli, sul calcolo che si è già formato possono ostacolarne o rallentarne la crescita, però non li fanno sciogliere, ecco, quindi il problema resta. Dovremmo avere una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Marianna da Torino, non so se la mia domanda è pertinente, perché i miei calcoli si trovano alla Gistetelle, sono 4 o 5 da un centimetro, il mio medico dice di lasciarli stare, finché non ho coli, che non ne ho mai avute, anche se da più di vent'anni che con l'ecografia sono riscontrati, la ringrazio molto. Grazie a lei, è un'altra cosa. Sempre calcoli sono, è un'altra cosa, adesso chiaramente bisogna valutare caso per caso, diciamo che mentre il calcolo della Colecisti, calcolo singolo, unico, si tende solitamente a lasciarlo tranquillo, a meno che non crede le complicanze, la calcolosi multipla invece è una situazione più a rischio di colica e di infezioni per cui l'orientamento prevalente è quello di provvedere a una bonifica anche in assenza di una sintomatologia clinica odiana, però chiaramente è una situazione che va valutata paziente per paziente, quindi non mi esprimo sul caso della signora. E allora intanto andiamo a leggere un altro messaggio, ho 73 anni, soffro di coliche renali e ipertrofia prostatica con frequenti infezioni alla prostata. Mi sono sottoposto a SVL per un calcolo, ma dopo una settimana mi hanno ricoverato per coliche, assumo integratori. Come posso prevenire le coliche? Paolo D'Assaluzzo. Beh, che abbia avuto la colica dopo le SVL ci sta, proprio per il discorso che si faceva prima, cioè c'è un bombardamento, il calcolo viene rotto, frammentato in tanti calcoli minori che vengono eliminati, in parte già subito dopo la procedura, in parte, diciamo fortunatamente da un certo punto di vista, qualche tempo dopo, quindi che ci sia stata una colica dopo una ESVL ci sta bene. Gli integratori purtroppo non si sa mai bene dentro che cosa ci sia, nel senso che oramai il mercato è pieno di integratori di varia composizione, quindi abitualmente non creano grossi problemi, a meno che non vengano anche qui presi in quantità smodata, diciamo che sulla calcolosi grossi, grosso beneficio non ne danno. Andiamo a leggere un altro messaggio. Ho fatto due settimane fa il vaccino per il Covid, adesso mi hanno riscontrato un calcolo di 13 mm nell'arena sinistro, può essere dovuto al vaccino Gianna, 64 anni, tortuna? Allora, un calcolo di 13 mm, quindi più o meno un centimetro e mezzo, non si è sicuramente formato in due settimane, è un calcolo che è lì da un bel po' di tempo, mesi per non dire anni, che non essendosi mai mosso, non ha mai dato nessun fastidio, per cui era un ospite clandestino che non si faceva sentire, ma ben presente, con il vaccino assolutamente non c'entra nulla. 011-06-00774 per le vostre telefonate 348-80-4254 il numero per mandarci sms o whatsapp. Dottor Squichimaro, differenze, diciamo, calcolosi renali in base all'età, al sesso, cioè differenze statistiche? Sì, diciamo che è una malattia solitamente dell'età adulta, con un'età preferenziale tra i 30 e i 40 anni, che colpisce più frequentemente i maschi che non le femmine. Però, pur avendo una maggiore frequenza in questa fascia di età, può manifestarsi anche in epoche successive, anche perché la calcolosi a volte è la conseguenza di altre malattie, malattie che possono essere del rene e delle vie scrittrici, ma che possono essere malattie anche di altri organi apparati. Prima si faceva il caso dei problemi intestinali, di malassorbimento, però altre cause frequenti sono per esempio l'iperapparativo idismo secondario e se vogliamo fare il caso del paziente anziano l'immobilizzazione protratta, cioè un paziente che sia obbligato a stare a letto perché purtroppo per lui non si può alzare, c'è un depauperamento osseo, l'osso rilascia sali di calcio e fosfato e questo se aggiungiamo il fatto che in genere questi pazienti purtroppo non riescono a bere tanto, questo favorisce la formazione di calcoli, quindi c'è una fascia diciamo più colpita ma nell'età adulta la calcolosi può insorgere a qualunque età. Quando invece compare diciamo prima dei 20 anni lì si ha più delle volte a che fare o con delle malattie su base ereditaria che incidono proprio sulla funzionalità renale o situazioni sono casi proprio rientriamo nell'ambito delle malattie rare di iperossaluria cioè difetti genetici che incidono sul metabolismo dell'acido ossalico che possono portare a queste conseguenze però prima dei 20 i 25 anni la calcolosi renale è un problema abbastanza poco frequente. Andiamo a leggere un messaggio. Anna da Asti soffro di calcoli o spesso la cistite volevo sapere come regolarmi con il mangiare ho 47 anni. Allora qui un altro discorso è quello del rapporto tra calcoli e infezioni nel senso che il calcolo può avere un'infezione può complicarsi con un'infezione cioè uno ha un calcolo e successivamente in conseguenza di questo corpo anomalo sviluppa un'infezione. Però può accadere anche la situazione opposta cioè un'infezione urinaria persistente persistente specie se sostenuta da determinati tipi di batteri può essere lei la causa del calcolo. Quindi non ne ho parlato prima perché sono calcoli con una patogene con una origine completamente diversa cioè sono situazioni su cui uno può fare qualunque dieta vuole non non cambia assolutamente niente. Qui bisogna eradicare l'infezione se non si toglie il calcolo l'infezione non verrà mai eradicata non verrà mai tolta di mezzo per cui quella della calcolosi urinaria infetta è un problema grosso non sempre di facile soluzione. Un altro messaggio 65 anni ho un'ipofosfaturia lieve ipercalcemia e paraturmone alto è un problema nefrologico o endocrinologico o entrambi? Gregorio da Turino è un problema endocrinologico nel senso che se c'è dunque aveva l'ipofosfaturia e il calcio alto quindi sembrerebbe lieve ipercalcemia quindi descritto così sembrerebbe un problema endocrinologico cioè un problema a carico delle paratiroidi che sono le ghiandole che producono il paratormone il paratormone è un ormone che agisce a livello soprattutto osseo ma anche renale aumentando i livelli nel sangue di calcio e favorendo una abbondante eliminazione renale di fosforo quindi paratormone alto come conseguenza calcio alto quindi ipercalcemia e fosfaturia alta quindi il problema è un problema endocrinologico che però può avere delle complicanze a livello renale e una di queste possibili complicanze è per l'appunto una favorita formazione di calcoli un altro messaggio allora ho letto su internet che chi soffre di calcoli deve prendere la magnesia e il citrato che però costano abbastanza c'è qualche alternativa posso bere acqua e limone Gianni che l'altro delle sostanze che ostacolano la formazione di calcoli quindi se uno prende magnesio e il citrato diciamo in qualche modo è protetto dai calcoli diciamo ci sono i prodotti del commercio a base di magnesio e citrato ce n'è quanti se ne vuole in effetti in genere hanno un costo diciamo abbastanza poco proporzionato al costo di produzione hanno un prezzo poco proporzionato al costo di produzione citrato e magnesio ecco per esempio questo citrato e magnesio uno li può assumere in quantità adeguate attraverso la frutta e attraverso le verdure quindi frutta fresca dove si parla sempre dei limoni in realtà quasi tutta la frutta contiene citrato anche perché poi i limoni è difficile che uno ne possa mangiare tantissimi specie se non gli piace i limoni vanno benissimo ma non sono assolutamente l'unica risorsa per esempio il magnesio ce n'è molto anche nelle banane negli avocado nelle verdure allora e ci è arrivato un altro messaggio noi lo andiamo a leggere eccolo qua mi hanno trovato dei calcoli ma io non ho mai avuto una colica è possibile non sia da bravo 56 anni sì è possibile perché la colica c'è quando il calcolo si muove se il calcolo non si muove se ne sta fermo tranquillo al suo posto lì dove si è formato non dà non dà segno di sé o comunque dà pochi segni di cui uno può benissimo non accorgersi quindi questa è una situazione abbastanza abbastanza frequente ancora un messaggio soffro di calcoli da anni anche se bevo sempre molto almeno un litro tutti i giorni che quindi non è molto non è tantissimo volevo sapere se non c'è una cura più completa oppure qualche pastiglia da assumere Gianni da settimo turinese intanto un litro non è proprio tantissimo qui è sempre il discorso del bevo bevo molto quello che per me è molto per un altro può essere poco per un altro può essere il giusto quindi diciamo se parliamo in termini di prevenzione della calcolosi la giusta quantità da assumere come hai già detto è quella che consente di fare almeno due litri di urine nelle 24 ore una cura specifica esiste però bisogna avere almeno due elementi cioè sapere che tipo di calcolo avevamo e sapere quale problema a livello di esami c'era che ha portato alla formazione del calcolo allora in questi casi si può impostare una terapia diciamo così personalizzata cioè ritagliata proprio sulle specifiche esigenze di ogni singolo caso con specifici interventi sull'alimentazione ed eventualmente anche con l'aiuto di determinati tipi di pastiglie che non sono le stesse per tutti se però non si riesce ad arrivare a questi risultati così precisi restano solo le misure generiche specifiche cioè bere tanto limitare il sale limitare la carne e limitare gli zuccheri a rapido assorbimento gli zuccheri semplici allora siamo quasi in conclusione per tornando all'individuazione dei calcoli renali accertarsi cioè accertamento di sangue opus nelle urine a quel punto intervenire con una radiografia o un'ecografia dell'addome per alcuni tipi di calcoli possono essere necessari esami con mezzo di contrasto o risonanza magnetica nucleare è corretto? diciamo che non tanto diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi per vedere un calcolo sono sufficienti una radiografia diretta dell'addome e un'ecografia diciamo che metodiche che tutte e due hanno dei limiti perché la radiografia diretta dell'addome se l'addome non è perfettamente pulito se il paziente ha una costituzione fisica particolare specie negli obesi o se il calcolo è molto piccolo può non dare delle immagini sicure l'ecografia lo stesso perché l'ecografia ha una buona specificità cioè se vede il calcolo vuol dire che il calcolo proprio c'è la sensibilità cioè il numero di falsi negativi dove il calcolo c'è ma non viene visto è abbastanza elevata perché appunto peggio per calcoli piccoli o per calcoli che sono in sedi particolari dove l'ecografia non riesce ad arrivare quindi diciamo questi se ho un fondato sospetto clinico di calcolosi la calcolosi non sono riuscito a dimostrarla con gli esami diciamo di primo approccio di primo livello allora in quel caso si può valutare se passare a una metodica di secondo livello che però è un attack senza mezzo di contrasto se si parla invece di metodiche ancora più complesse tipo un uro attack o una risonanza magnetica sono esami che si fanno fondamentalmente in previsione di un intervento chirurgico per la programmazione operatoria più estremi siamo ai saluti dunque io ringrazio il nefrologo dottor Giuseppe Squici Marlo per essere stato con noi arrivederci a tutti buongiorno dottore si chiude qua buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti Grazie a tutti.